Ciao a tutti ragazzi, siamo in live! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao, ciao, ciao a me stesso, praticamente. Sono cretino! Sì, ecco qua un altro che è proprio fatto, ma non chiamolo, non so perché è divertente, io sono proprio bravo, gli chiamolo. Non pensare, non sare, chi è nascosto dietro a me, e non verrà, chi troverà, l'esco di qua. Grazie. Oh, c'è una persona in live, ciao! Quella persona che è in live può scrivere in chat, per favore? Sì, ecco qua. Sì, ecco qua. Sì, ecco qua. È poco. Sì, ecco qua. Siamo in due live, ciao a tutti Non so se Mi arrivano i messaggi Però non so nemmeno se state scrivendo Vi prego Scrivete qualcosa voi due che siete in live Altrimenti è come se non ci siete Mi sento solo così Vabbè uno ha abbandonato Allora Allora Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non mi arrivavano i messaggi a quanto pare. Sì ma ci deve essere un problema allora. Tipo... Boh raga perchè in live provi a scrivere qualcosa. Siamo in tre adesso tipo si era capito. Eh lo so. Da qua si vede... Da YouTube si vede che siamo in tre. Da YouTube si vede che siamo in tre. Invece dalla live mia si vede da qui. Si vede che siamo in una persona. C'è una persona quindi... Forse è meglio se rimango su YouTube oppure riattivo la live. Rifaccio la live perchè... A me mi da parecchio fastidio questa cosa. Boh siamo in quattro. Le quattro persone scrivono a parte che si ci pre... E... Da qua si vede che siamo in quattro invece. Da qua a tre è un casino. Cabo. Dovrei evitare di stare su YouTube però. Dovrei evitare Cabo. Ah i miei vecchi video. E se tu rimani su YouTube qua a vedere la città della live facciamo delle domande robessime. Ah brava. Brava sei una genia. Ok ciao ciao cacciamelli e boh fatemi domande allora. Cabo ne so. Perchè poi a voi vi da un po' fastidio perchè è come se vedete un loop nel video. Perchè io sono su YouTube. E' come se vedete un loop infinito. Un loop. Un loop. Quindi vabbè fatemi domande. Fate domande. Anche se... UGF preferite? E se... Allora. E uno dei miei preferiti è stregato ma... Non... 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 Non te lo lascio. T'ho stregato. Ok però anche Alex, Giorgio ma il mio preferito è un assoluto Giorgio Catorgico mi sembra ovvio. Anche perchè uno strappanello da un botto di mese mi manca un troppo. Ah tranquilli. Aicchio. Tutta la testa che pappe. Che pappe. Boh Giorgio è la mia vita. Giorgio. 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 Boh. Intanto voglio mettere... Ho voglia di mettere qualcuno... Uno che vuole minare. Toh. Toh. Ti ho messo il moderatore mia. E metto il moderatore anche Meli se sta ancora in live. Metto tutti quanti i moderatori va? Christy se sta ancora in live sempre. E Riccardo Lala ma non penso sia più in live. Perchè non sta più scrivendo niente. Yeeey. Boh. Tutti quanti i moderatori se dai. Tutti. Per tutti. Mianolio. Che posso farti? Boh. Decidite. Dai fatemi domande tipo. Che speciale volete? Perchè? Il video non digacia che stavi facendo? Non ho capito la domanda. Scusa. Gelato. Vabbè intanto. Ah giusto. Quel segretone. Quello la presto arriverò. Devo ancora cominciarlo perchè sono pigro. Ma lo comincerò. Ve lo prometto. Lo comincerò quel tipo di video. Si 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 ho capito 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 capito. Comincerò quel tipo di video molto presto. Ma non più da quel modo. Ma in un altro modo che poi vi spiegherò. Appena saremo più avanzati ci saranno diversi doppiatori di questa serie che in arrivo non digaccia. Quindi boh. Intanto fatemi spegnere l'attimo che dà fastidio. Allora. Si tranquilla arriverà. Arriverà. Intanto. Volevo dirvi che ieri era il mio compleanno. Se non lo sapevate. Vabbè Mia lo sapeva. Altri no. E ieri era il mio compleanno. E avevo deciso di fare uno speciale compleanno. Non lo so. Ma non lo so facendo in ritardo. Quindi dovrebbe essere tipo. Un boh. Una. Uno speciale. Uno speciale dei mille iscritti. Super mega. Iper ritardo. Aspettate un attimo. Eccomi scusate. Comunque ho letto mia. Va bene. A dopo. Boh raga. Comunque c'è ancora quel bug. Che non mi arriva. Nei messaggi da là. Quindi boh raga. Per tutti quelli che sono in live. In questo momento. Ritornino nella live di dopo. Perché la sto fermando un attimo. Perché devo cambiare tutto quanto. Per togliere sto bug. Quindi adesso la fermo un attimo. Adesso la rifaccio. Non preoccupatevi. A dopo. Alla fastidio. Grazie a tutti.